Contributo fitto per l'emergenza da coronavirus, il comune di Battipaglia ha approvato la gradatoria. Sono state ammesse 323 domande su 793 che sono provenienti dall'ente. È stato pubblicato l'elenco ufficiale sull'albero pretorio in formato criptato per tutelare i beneficiari nel rispetto della riservatezza. Il tutto poi è stato inviato alla regione Campania da inserire in civili a web. Sono stati stanziati 6.450.674 di euro da ripartire in proporzione all'indicenza del numero delle domande del singolo comune sul numero complessivo delle domande trasmesse da tutti i comuni. Sono in corso le verifiche amministrative e l'attribuzione dei fondi per ogni comune. Poi verranno accreditati i contributi ai battipaglisi che sono risultati beneficiari.